... Cari amici, benvenuti nella Mindfans Vanilla di... ...MINECRAFT! E cos'altro dovrebbe essere dopo tutto? Questo è un ospite speciale che abbiamo, semina zucchero per la casa. E' molto comodo. E' molto simpatico. Allora, siamo arrivati al punto in cui dobbiamo finire il castello nella parte sopra. Ormai stiamo chiudendo tutti i tetti di queste zone. E io ho deciso che non tornerò a casa finché Ellen aveva messo a posto i cestri. Perché non ne posso più di vedere le cose in giro. Quindi, vogliamo cercare di fare questa piccola cosina, miglioria e bla bla bla. Come mi manca il tastino destro per rimettere in ordine l'inventario? E' il tasto centrale. E' uguale. Non è uguale, è il tasto centrale. Ti manca lo stesso. Ti mancano troppe cose. Allora, io direi quindi di... Piantare le birce. Ma che? Distruggere birce. A morte. Non ho piantato una nuova, veramente. Ma ora vado lì e brucio il bosco. Basta, mi serve quel bosco. E cerchiamo di fare... Allora, innanzitutto, ci faremo di stone brick. Abbiamo un sacco di stone da trasformare. Quindi non ci dovrebbe mancare. E voglio, appunto, farlo leggermente rialzato. Qui ci ho messo le scalette. E qui ci metterò qualcosa, appunto, di simile. Però voglio farlo almeno... Le voglio fare diverse. Voglio fare delle alte torri, invece che come è adesso. Quindi, facciamo finta che io voglia mettere questa cosa lassù. La voglio mettere lì. Vediamo se mi ci arriva là. Perfetto, lo voglio mettere là. Sì, è carino a vedersi. Non lo so, secondo voi? Secondo voi? O dovrei metterlo più in alto ancora? Forse sì. Forse sì. Forse no. Ma che ne so. La, 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 la. C'è una gallina che si è infiltrata nel campo delle mucche. C'è una gallina che semina il grano. Volta la carta e se lo mangia. Mamma mia, è carnivora proprio. Non mi sembra carnivora uno che mangia il grano. No. No. Ok, facciamo finta che sia lì la base d'appoggio per le nostre hall. Non è che me. Ho lasciato la porta aperta e mi è uscita la zucca vivente. Ma sei stupido, Forse. Ma no, con tutta la fatica che ho fatto, vabbè. Tu, eh. Sono andata io a prendere la neve. E vabbè, vabbè. Potremmo anche lasciarmene un po' dopo, eh. Comunque. Però lasciate un po', c'è l'inventario. Sì, effettivamente. Allora, vediamo un po'. Io voglio fare quindi questo così. Sì, e poi, cos'è? Allora. Cos'è? Cos'è? Ma che zucchero è? Cos'è? È un gatto intorno a me. Ma che gatto? Io non me l'ho fatto riedere un po', sapete. Ma perché? Perché non ho inteso di tornare in quel disordine putrescente. Fammi fare... Dormi dai tuoi animali. Sì. Avevo poi fatto il bagno prima di tornare. No, c'è qua, c'è o meno puzza qui che nei nostri chest. E vabbè. Allora. Dormo qui. Al massimo sarà odore di cobblestone, amore. Non è che... Beh. La. La. No, gallina, sul letto non ci devi stare. Ma come sei davvero messa il letto lì? Guarda che ti toglie il punto di spawn, poi. La gallina. Tu ti toglie... Ma sei che la gallina? Ma tu ti togli il punto di spawn, se ce l'hai? Non lo so, va bene, ma sai che distanza. Sai che distanza... Non mi fare queste cose che non hanno alcun senso, eh. Ok. Allora, guardate lì che carina... Che cos'è quel posto là? Ma... Un altro accesso alla miniera. Di quella gente strana detta a Kaledan e Darkie. Non li capirò mai. Qua prepariamoci... Stai diventandoci a notte. Come passa veloce il tempo quando non si fa nulla? Soprattutto. Eh, soprattutto. Che cosa vuol dire gne 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 gne? Vuol dire gne 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 gne. Gne 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 gne. Gne 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 gne. Gne 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 gne. Gne gne gne. Ok, lì è l'unico posto dove non ci andava questa, probabilmente, perché... Oh sì, ci va invece. Ci... No, però va messa a diversa. Ahà, era diversa. Era di gne 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 sottoterra. Ok, l'importante è ricordarsi in tempo quello che si sta facendo. Giusto? No. Giusto. Giusto. Ok, qui sta diventando notte e a me non mi interessa. E vediamo. Allora io direi che qui potremmo farlo anche più largo per fare una cosa assolutamente assurda. E asimmetrica. Non proprio asimmetrica. Diciamo da un certo punto di vista sì, ma non dall'altro. Quindi vediamo di fare una bella torretta. Direi che non la voglio fare troppo troppo larga perché non mi interessa. Direi che potrei farla larga quasi così. Sì, bada, du. Più larga o più piccina? Uffa, mi escono sempre due galline fetenti. Fetenti galline malefiche. La la la, la 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 li 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 lu. Du du. Allora facciamo finita. Venga a dormire. Venga a dormire. Sì, vabbè non importa. Ormai mi sono sentata. Uno, due, tre. Allora facciamo finita. Se fosse uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre e quattro. E fosse qui uno, due, tre e quattro. E' giusto, le galline passano anche dalle porte chiuse. Sono terribili le galline, non si sapere. Sono una cosa scena. Allora facciamo finita e la voglio fare una roba non esagerata. Se no mi viene uguale a quell'altra. Eh, è che viene uguale a quell'altra? No, bisogna troversi più larga. Ok, quindi non la allargerò di più di così. Voglio farla strana, diversa, assurda, eccentrica, mua ha ha. Mua ha ha. Sono cose da proprio, proprio, da genio del male fare le cose in questo modo. Vai scava, distruggi una scava, la stalla, la stalla, la stalla vede la scava e la scava vede che sei scemo. E se vedi che c'è una chiria, smamma. Che bruno, è un po' storrendo, guarda. Anche il creeper lo disdegna. L'ho piantate tutte io. Appunto, gli darò fuoco. Basta. Guarda lì il nostro zuccherificio. Vai a casa che ti prendi freddo. Ma dov'è? Nel giardino. È nel giosto giardinetto. Ma si via freddo se sta lì. Ma glielo dico io, portalo a casa. Mia, va a dormire a casa. Zucchetto. Zucchetto, zucchetto, zucchettetto. Du, la, la, la. Guarda il creeper. Le galline sono pestifere, perché sono gli unici animali che non riesci a tendere cinta in nessun modo. Mi fanno anche le uova sui cuscini. Le uova sui cuscini, fetenti. Che schifo le uova sui cuscini. E basta che non ti si spappolino. Comunque dovrebbero, a quel punto, cioè, dato che mettono la carne, eccetera, direi che non si fanno problemi per vegetariani o vegani. Quindi, secondo noi, dovrebbero fare che uno possa cuocerselo un uovo, farselo sodo o qualche cosa del genere, che non ha alcun senso. Vabbè, uno può anche mangiare vegetariano anche a Minecraft. Sì, nel senso, però, come non è che si preoccupano, possono benissimo aggiungere che l'uovo si può cuocere. Non è da dire, eh no, Minecraft è un gioco dove non sarebbe mai permesso. Come fanno tutto il resto, fanno anche questo. Ti piacerebbe. Ok, allora direi che una crafting table al piano sopra ci potrebbe anche stare, giusto perché ha la sua comodità. È tornato zuccherificio in casa, vai. Bravo, sigilalo dentro. No, non uscirai più. Ok, allora, prendiamo questo legno di bircio orrendo e diamogli un senso. Allora, legno di bircio, ora diventa una crafting table che non si può sapere di che materiale è fatta. Ma che cattiva è un fan. E voi non avete visto nulla. Tu non hai visto niente. Niente, faccia di creeper. Faccia di creeper. Creeper. Ma da quando c'è questa variante? Creeper, schifoso, creeper. Ma chi l'ha messo queste variante? Certo, proprio tu dormi ogni tanto. Ma è dormire anche, ma... Eh sì, quando c'è uno sibilio nella stanza, ogni tanto, non si concentra. Allora, questa è una torretta. Bene, me la voglio fare alta. Alta, alta, alta. E io sono piccino. Mi chiamo... Scemo. No. Sì. Mi chiamo, volevo dire, una cosa più intelligente, tipo... Stupido. C'è qualche ballo con la S che possa non essere un... Stupido. Qualcos'altro? Scemo. Ma non mi piace. Stupido. Stupidiscio. Ma perché? E perché no? Allora, facciamo questa bella torretta. Alta, alta, alta. E tu sei... Chirina. Ma lo so, non importa sempre ricordarmelo. Là. Dove sei? Ma cosa hai fatto? Ma dove sei finita? Dove sei? Sono in giro. Ma che ci fai in giro? Ma niente, sono in esplorazione. Visto che tu te ne stai lì a mettere in ordine in cesta. Ma non sto mettendo in ordine in cesta. E faresti bene a farlo, invece. Hai detto che non torni finché non metti a porto in cesta? Mi dai un modo di essere finalmente libero, tranquillo e rilassato. Che cattivone! Avrei dovuto farmi una scorta di ferro di bastoncelli. Perché? Perché non è che sono messa poi alla grandiosa. Non sei messa alla grandiosa. Comunque i cobblestone wall. Possibile che non potevano già che c'erano mettere anche uno stone brick wall o qualcosa del genere. Cioè come blocchi decorativi sono davvero a zero. Uno non ce la fa a fare. Creeper! Mi insegue un creeper! Anche lì un blocco di creeper proprio. Sì! Perché non metto un blocco di creeper? C'è una feccia che mi è volata sopra la testa. Ma che tenea. A quanto sono alto qui? A due creeper e mezzo. Non so quanto. Allora sì, lo posso ridire da lì, penso. Penso che se uno, due, tre... Sì. A tre più in alto. Ok. Non ho ancora visto casa delle streghe. Ce l'è una vicina alla casa di Ren di Renna. Davvero? Pare. Così dicono. Perché... Una giungla, forse l'ho trovata. Una giungla? Una giungla, una giungla. Ma non per prenditi il gatto perché se no... Niente gatti. Ma basta. Ok. Allora, dobbiamo essere a questo punto... Allora, dato che non so che altezza farlo, direi che l'altezza giusta... Ma è un pochino più alto del di quella casa lì. Eh, per forza. No, scherzo. Vado a caso. Non mi interessa. Allora, dai, facciamo alta così. Dai, non ha senso fare la iper ultra alta. Se no, sta anche male l'effetto finale. Giusto? Io cercavo la cioccolata nella giungla, ma non c'è. Ma non ci sono i semi di cacao. Io sono venuto più apposta per quelli. Sono le pecore incastonate. Le pecore incastonate. Quelle sono le migliori. Stanno troppo simpati. Le pecore incastonate. Sì. Sono simpatiche. Sì. Dici. Non lo so. Tu che dici? Tu le conosci. Allora, ho quasi finito gli stone brick. Allora, guardate che bello quando uno fa... Esatto. Mettendo quattro blocchi di stone nella crafting dell'inventario, verrà la musichetta di Star Wars. Yeah. Provateci tutti e se non ve lo fa, scrivetecelo perché vuol dire che è un bug. È un bug di Minecraft. Ok, prendetela con Gerbio, non certo con noi perché le nostre cose sono giuste. È un easter egg che abbiamo scoperto. Non vorrei smettere qualcuno qua che ti dà anche retta. Ma perché? Ma non sono tutti come te, eh. Non lo so. Ma perché? Grazie.